Però dai che sfigata! Cioè, perché non mi sono scoperto? No! No! Non mi sono scoperto! Andola! Non bello quello in Pimp! Non bello quello in Pimp! Allora, Pamela, adesso te lo faccio provare! Dai! Ma me te lo faccio provare! Allora, il compagno di Ale, un uomo stupente! Mettilo bene! Non ti bella! Non ti bella! Eccolo, se lo metto bene. Allora, un uomo stupendo non ti vieta di andare in discoteca, non ti chiede chi sono i tuoi amici, non parla sempre di calcio, non si lamenta in continuazione ma ti aspetta sempre di scoprire non ti dovrò soddisfare qualunque tua voglia. Allora, ripetisco e voglio dire che non c'ho bisogno di più. Mettila dritta dritta! C'avrò anche! Non lo so, qualcun altro disponibile in carne d'osso? Apri! Apri e gompia! Apri e gompia! Ma perché è? Mi vergogno! Dai, dai! Apre e gompia! Ma che fa mi risponde! Apre e gompia, dai! Dai, gompia, gompia! Gompia, gompia! Ti vuole un'altra persona a gonfiare! Angela! Angela! Ma perché si gonfia veramente? Per lui gonfiare! Sì, va beh! E' rosa, troppo rosa! E' un maialino! Dai, e' lui, come volevi? Vai Angela, vai, vai! C'è pure i capelli! C'è! Guarda, gonciano con la bocca! Come? Dopo che ho visto questo! Angela! C'ha i peli! Che schifo! Gompia! Che schifo! Gompia! E' un pochetta! Accochietta! Serba una bocca! Seve una bocca! Eh, ma poi non c'è bisogno di gonfiarlo! Stata salita! Stata salita! Adesso la forza buriello già ce l'ho! bravo 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 guardate fa 7 minuti ma perchè fa 7 minuti di video ma quindi sono 5 sei 5 è pure in festezza mangio di 6 7.14 da indietro non lo fare tutto non si può dire a casa tua posso chiedere? coppia 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 io già mi sono spombata che devo...